Youtube come lo considero un calendario hot? Non è il mese di aprile, quello è il mese di aprile aaaaaaah What the fuck?! Bene ragazzi, io sono Al Giesius e eravamo andati a fare una camminata Eriamo andati a fare una camminata molto Eriamo andati a fare una camminata molto tranquillamente nei miei dintorni molto easy e innanzitutto buon non so quando uscirà questo video buona pasqua, buon sabato santo, buon venerdì santo buon lunedì santo, quello che volete auguri a tutti lo resta il fatto che camminando troviamo una cosa strada una cosa che a tutti i maschietti piace ma non credo sia una cosa molto interessante da trovare per strada allora io non so adesso youtube come lo considera un calendario hot sto parlando il video perchè mi passava un on si sono notate in foto a destra uno schermo qua più o meno in questa zona si bravo, rimetti la testa a posto no, rimetti la posto no, stai vero odio santo c'è un calendario ma non è il solito calendario è quello non è il mese di aprile è quello il mese di aprile è una cosa diciamo abbastanza e quindi e quindi e io passeggio e trovo queste cose per strada bello che andando non si vedeva tornando al vero obiettivo del video salve tornando al vero obiettivo del video era quello di sapere la durata di mystery dungeon perchè i primi due episodi sono stati di 20 minuti ciascuno cioè 20 e 22 minuti e adesso vi chiedete volevate un episodio da 22 minuti o preferivate un episodio da 15 però taglio a cazzo quando decido io la storia molto semplicemente fatecelo sapere con un commento qua sotto fatecelo sapere ci vediamo lunedì col video a 16 minuti perchè buona pasqua a tutti buona pasqua ciao ciao salve e buona pasquetta visto che il lunedì poi e buona a tutti e buon rientro a scuola ma che meno sfida